Pubblico già caldo, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio dell'arbitro che darà il via al match. Tutto pronto per questa sfida, un saluto all'Ele Adani. Torna alla Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Non vedo l'ora, non vedo l'ora che inizi, ma quando inizia sta partita? Io spero che le due squadre sappiano farci divertire. Morata, attenzione! C'è la respinta del portiere, si gioca. Traversone che viene intercettato e entra sul pallone. Ecco l'undici iniziale della squadra di casa. Andiamo per la porta, difesa che vede l'impiego di Teo Hernandez con Emerson a presidiare le corsie laterali. In avanti, occhi puntati su Morata, schierato come unica punta. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Ecco Pulisic. Servito Morata. Ha evitato un gol quasi certo. Riflettori puntati su di lui per questo match, è un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è in giornata. In campo aperto diventa praticamente inarrestabile, se non ricorrendo al fallo. Attenzione quindi ai suoi cambi di passo. Gioco frammentato, fanno fatica a trovare continuità nel palleggio. Procede a fatica. E' entrato bene qui con decisione. Reinders. Leao. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Hernandez. Alvaro Morata. Va al tiro. La parata del portiere che dice di no. Pier Caludi. Manuel Locatelli. Si va da Locatelli. Palla persa dalla Juve. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Tenta la conclusione. La spitta sicura del portiere. Palla recuperata in zona d'attacco. Attenzione. Alvaro Morata. Optano per una tattica più prudente lasciando il pallino del gioco in mano alla squadra avversaria. Occasione per andare avanti. Miracolo del portiere che salva un doc che sembrava già fatto. Non ci credo, Pier. L'intervento va davvero straordinario. Corner corto. Pallone interessante questo. Grande intervento per recuperare palla. L'arbitra segna il calcio di punizione per la Juve. Buono il recupero del pallone. Ciocqueze. Discesa di Ciocqueze. Si fa spazio. Possono sfruttare questo corner per trovare il vantaggio. Hanno l'occasione della bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro squadra. Pallone allontanato. Tocco per Pulisic. Rete. È arrivato il primo gol del match. Sono riusciti finalmente a concretizzare il proprio dominio. Kellia. Palope呀. Palu. Palu. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 Manuello Catelli Si andrà Matti a giocare per altri 60 secondi Guadagni a metri Iniziativa sventata dal cortiere Fischia l'arbitro con la prima frazione che si chiude dunque in questo istante La gara non è ancora finita Si gioca per il secondo tempo, Juve è grappata al match ma che deve recuperare un gol Non può sbagliare Ha letto bene qui, ha salvato la propria squadra Fofana Ecco Pulisic Ecco Pulisic Federico Gatti Che freddo Uram Azione che può diventare pericolosa Francesco Conceissal Lo stesso palla è interrotto Gatti Theon Koppmeiners Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio Crosse in mezzo Fischia l'arbitro, azione interrotta e offside Non ha fatto in tempo a rimettersi in gioco Il passaggio doveva essere leggermente ritardato Si preparano al cambio Legge bene la traiettoria e riparte Francisco Conceissal Avanti della sua azione Cambiaso Manuello Catelli Buono questo passaggio Niente da fare Il difensore recupera Emerson Supera facilmente il difensore Serve indietro il compagno Può andare nello specchio Sembrava già dentro Decisiva qui la deviazione Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora Copmeiners Manuello Catelli Ultime chance per la Juve per evitare il KO Vediamo cosa combinano Copmeiners Attenzione pericolo Confusione che non può creare davvero problemi E imbarazzi al portiere Chiara che volge al termine Risultato che sorride i padroni di casa Che dovranno resistere agli ultimi assalti Devono resistere ancora un po' Prima di festeggiare questa vittoria E dimostrare di essere più forti anche delle fatiche a Pier Certo che è più facile a dirsi che a farsi La formazione avversaria Normale no? Le proverà tutte per rimontare il gol di svantaggio E strappare almeno il pari Hanno campo Possono far male con la ripartenza Ballone che ha superato la linea laterale Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche Douglas Luiz Soares De Paolo Ci mette i pugni Il portiere è all'ottana Il recupero sarà di un minuto Cristian Pulisi Ecco il trevice fischio Vittoria e punti preziosi per la formazione di casa